rari mixati rilassati rari mixati rilassati qui onore alle menti criminali qui a firenze e in italia diciamo a quest'ora non è che si possa vendere di meglio onore alle menti criminali io vi consiglio di fare un brindisi a questo disco perché veramente qui la storia è buona questa è una musica buona è un sound bono delle menti criminali a catatevillo me lo sta dicendo lui a catatevillo me lo sta dicendo lui